Ciao a tutti! Con questa lezione incominciamo ad occuparci dello spazio tridimensionale di After Effects. Oggi vedremo come cambiano le proprietà di trasformazione nello spazio, cioè soprattutto come cambiano la posizione, la rotazione e la scala. Nelle prossime lezioni poi impareremo anche a orientarci meglio all'interno dello spazio 3D usando contemporaneamente più punti di vista sulla stessa scena. Poi impareremo anche ad inquadrare la scena attraverso le camere e ad usare anche le luci per illuminare gli oggetti e creare le ombre. Inoltre durante le lezioni metteremo anche subito in pratica quello che impariamo costruendo questa scena che vedete qui. E quindi diamo immediatamente un'occhiata al risultato finale. Come vedete si tratta di un paesaggio tridimensionale all'interno del quale c'è un grande prato sul quale sono appoggiati dei disegni a varie distanze e la scena è inquadrata da una camera in movimento. In questo caso si tratta di una camera che si muove lateralmente da sinistra a destra e in questo altro caso si tratta di un movimento in avanti. Inoltre come vedete tutti quanti gli oggetti proiettano la loro ombra sul prato e come vedete bene in questa inquadratura è possibile mettere a fuoco in modo diverso gli oggetti. In questo caso sono a fuoco i tre personaggi centrali mentre gli oggetti sullo sfondo sono sfocati. Bene direi di cominciare subito. Innanzitutto se volete usare anche voi lo stesso materiale che sto per usare io come al solito potete scaricarlo dal link che io vi lascio nella pagina del tutorial. La composizione come vedete l'ho già creata. Ho usato il solito preset HDTV 1080 25 e gli ho dato una durata di 10 secondi. Bene prendiamo un disegno dalla finestra progetto per esempio la casa e la mettiamo all'interno della composizione. Innanzitutto bisogna dire che lo spazio delle composizioni è già tridimensionale cioè è largo alto e anche profondo cioè ha già incorporato in sé la profondità e se vogliamo che gli oggetti si muovano all'interno di questo spazio tridimensionale dobbiamo accendergli il pulsante del 3D che è questo bottone rappresentato dall'icona del cubo. Ora se voi per caso non vedete questi comandi all'interno della timeline cliccate qui in basso sul bottone toggle switches modes oppure cliccate col tasto destro qui nella parte alta della timeline e nel menu columns attivate la voce switches. Bene quindi accendiamo questo pulsante qui e la prima cosa che possiamo notare di nuovo qui sull'anchor point della casa è la presenza di queste frecce colorate. Abbiamo una freccia rossa verso destra che indica la direzione delle x, abbiamo una freccia verde verticale che indica la direzione y e abbiamo una terza freccia blu che in questo momento punta diretta verso di noi che è la direzione z cioè la profondità dello spazio. Bene adesso andiamo nella timeline apriamo il contenuto del livello casa. Ora se anche voi state usando come me l'ultima versione di After Effects la CC 2017 vedete questa sezione geometry options mentre se probabilmente state usando una versione più vecchia di After Effects tipo la 2015 probabilmente voi non la vedete. Questa sezione qua al momento è disattivata e si attiva soltanto quando all'interno di After Effects viene usato un motore di render diverso da quello standard che al momento è in funzione. Quindi al momento noi la ignoriamo completamente. Queste cose le vedremo più avanti durante il corso. Poi abbiamo una sezione material options che invece dovrebbe essere visibile in tutte le versioni di After Effects nuova e vecchia che contiene delle proprietà che diventeranno importanti soltanto quando aggiungeremo una luce all'interno della scena per cui anche queste proprietà oggi non le prendiamo in considerazione. Quindi chiudo di nuovo material options. Oggi invece come avevo detto all'inizio ci concentriamo sulla sezione transform quindi apriamo il contenuto di transform e qui abbiamo le solite proprietà posizione, scala, rotazione eccetera. Però c'è qualche novità importante. Incominciamo subito dalla position. Come si vede ora la posizione è divisa in tre parametri. Il primo parametro è la posizione x. Se io clicco e trascino su questo parametro come succedeva anche nello spazio bidimensionale sposto la casa a sinistra e a destra. Se agisco sul secondo parametro sposto la casa verticalmente in alto e in basso e se agisco sul terzo parametro sposto la casa in avanti o indietro. Ovvero se aumento il valore sposto la casa verso l'infinito e se diminuisco il valore sposto la casa verso di me. Ora prima di proseguire vi faccio notare una cosa. Se noi teniamo premuto il tasto shift quando clicchiamo e trasciniamo il mouse sui parametri di trasformazione notate che riusciamo a imprimere degli spostamenti maggiori all'oggetto. Vedete che la casa in questo momento si allontana molto più rapidamente oppure si avvicina molto più rapidamente con un unico gesto del mouse. Lo shift quindi fa da un moltiplicatore quando noi interveniamo col mouse a cliccare trascinare sui parametri e questo vale naturalmente anche per tutti gli altri parametri la x la y e qualsiasi altro. Bene quindi dicevamo quando aumentiamo la posizione z della casa noi la stiamo spostando verso l'infinito non la stiamo rimpicciolendo. Noi la vediamo più piccola perché entra in funzione appunto la prospettiva tridimensionale. Gli oggetti lontani li vediamo piccoli e gli oggetti vicini li vediamo più grandi. Bene questo per quanto riguarda la posizione. Un'altra grande novità è la rotazione. Prima nello spazio bidimensionale avevamo un unico parametro che si chiama rotation qui invece abbiamo tre parametri x rotation y rotation e z rotation. E questo perché se noi aumentiamo il valore di x rotation come vedete la casa adesso ruota intorno all'asse x cioè usa come perno quella freccia rossa che vedete sull'anchor point e quindi la rotazione avviene così in senso verticale. Mentre se agiamo sulla y rotation la casa ruota intorno all'asse y cioè alla freccia verde e quindi ruota così in senso orizzontale. E se invece agiamo sulla z rotation la casa ruota intorno all'asse z cioè usa come perno la freccia blu che punta verso di noi. E poi abbiamo una nuova proprietà che si chiama orientation che non avevamo nello spazio bidimensionale che ha tre parametri. Il primo agisce sulla casa in modo del tutto secondo parametro orienta la casa in modo simile alla y rotation e il terzo ovviamente in modo simile alla z rotation. Però c'è una differenza tra la orientation e le tre rotation. La differenza principale è che i valori dei parametri dell'orientation vanno da 0 gradi a 360 gradi come vedete. Quando superiamo i 360 gradi il valore torna di nuovo a 0 e non scatta un giro completo come invece avviene per le tre rotazioni. Quindi questa proprietà orientation non è assolutamente adatta a fare animazioni sulla rotazione. Serve soltanto ad impostare un orientamento diverso rispetto a quello frontale. E quindi nella maggioranza dei casi noi non useremo mai la proprietà orientation ma useremo sempre le tre rotation per orientare e animare la rotazione degli oggetti. Useremo anche l'orientation qualora avessimo l'esigenza di fare una animazione sulla rotazione e anche di orientare l'oggetto in una direzione diversa da quella frontale. Facciamo subito un esempio. Prendiamo in considerazione la x rotation. Al tempo 0 accendiamo l'orologio di x rotation con valore 0 e dopo un secondo facciamo fare la casa un giro completo intorno all'asse x. Quindi assegniamo 1. E così abbiamo l'animazione della casa che ruota su se stessa e fa un giro completo. Bene adesso immaginiamo che oltre a questa animazione sull'asse x vogliamo anche che la casa sia orientata verso sinistra. Allora se noi riorientiamo la casa con la y rotation la giriamo verso sinistra. Notate che l'animazione della casa non avviene più intorno alla freccia rossa ma avviene sempre verso di noi. In questo modo strano. Quindi riazzero la y rotation e quindi per non avere problemi riorientiamo la casa con il secondo parametro della orientation. E come vedete adesso il risultato finale è quello che volevamo. Cioè la casa ruota intorno al suo asse x però è riorientata verso sinistra. Bene quindi questo è l'unico caso in cui useremo l'orientation cioè quando oltre all'animazione sulla rotazione bisogna anche riorientare l'oggetto. Bene adesso eliminiamo l'animazione sulla x rotation cliccando sull'orologio e resettiamo anche tutte quante le proprietà di trasformazione cliccando sul bottone reset in modo che la casa torna alla situazione originale. Vediamo ora la proprietà scala. Anch'essa ha tre parametri scala x y e z. Se spegniamo la catena che tiene uniti i tre parametri noi possiamo variare solo la larghezza, variare solo l'altezza e variare il terzo parametro che però non produce alcuna variazione. Per far capire meglio questa cosa magari prima ruotiamo la casa intorno all'asse y e adesso continuiamo a aumentare e diminuire il parametro z. Come vedete lo spessore della casa non aumenta. E questo perché? Perché la casa come tutti gli oggetti in After Effects non ha spessore cioè sono e rimangono delle superfici piane che però possono come avete visto muoversi all'interno di uno spazio tridimensionale. Tanto è vero che per After Effects non si può parlare di vero e proprio 3D in cui lo spazio è tridimensionale e gli oggetti sono realmente tridimensionali cioè non volume ma si deve piuttosto parlare di una via di mezzo di uno spazio come alcuni lo chiamano 2.5D. Quindi ripeto gli oggetti in After Effects non sono tridimensionali sono sempre dei piani che però possono muoversi e ruotare in uno spazio tridimensionale. Bene risettiamo di nuovo le proprietà di trasformazione e adesso vediamo rapidamente l'anchor point e anche l'anchor point come vedete ha tre parametri perché come vedete è possibile spostare l'anchor point orizzontalmente è possibile spostarlo verticalmente ed è anche possibile spostarlo in avanti o indietro cioè se di nuovo ruoto un attimo la casa con la y rotation e modifico il terzo parametro dell'anchor point vedete che adesso l'anchor point si trova più lontano della casa. In questo caso se continua a ruotare la casa intorno al perno verticale adesso la casa ruota così. Ruota intorno a un punto lontano dalla casa e la stessa cosa vale per la scala. Se di nuovo riaccendo la catena che tiene unite le tre proprietà ora la casa si rimpicciolisce intorno all'anchor point che si trova distante oppure si allarga da quel punto lì in avanti in questo modo qua. Bene per l'ennesima volta presettiamo le proprietà di trasformazione e adesso vediamo come interagiscono due oggetti all'interno dello spazio tridimensionale. Quindi lasciamo la casa lì al centro della composizione e aggiungiamo un secondo disegno per esempio l'albero. Quindi lo prendo e lo aggiungo nella timeline. Bene anche per l'albero accendiamo il pulsante che attiva il 3d apriamo le sue proprietà di trasformazione e proviamo a spostare l'albero con la posizione z cioè se diminuisco il valore l'avvicino e se aumento il valore l'allontano. E come vedete non appena si trova in una posizione più lontana della casa sparisce nonostante il livello albero si trovi al primo posto nella timeline. Per cui notiamo immediatamente che la gerarchia dei livelli è cambiata nello spazio 3d cioè noi vediamo gli oggetti per primi solo se sono più vicini a noi quindi in questo caso nonostante l'albero si trovi al primo livello nella timeline viene nascosto dalla casa perché come posizione nello spazio è più lontano da noi. Se lo voglio vedere davanti alla casa devo portarlo più vicino a noi quindi diminuisco il parametro z dell'albero e questo punto è più vicino a noi e quindi lo vediamo prima della casa. Bene prima di concludere la lezione direi di posizionare i primi due oggetti di questa scena qua cioè incominciamo con lo stendere il grande prato in orizzontale e poi li appoggiamo sopra la casa in questa posizione qui. Quindi magari liberiamo per il momento la timeline quindi selezione due oggetti e li cancello e incominciamo con l'aggiungere il disegno del prato eccolo qui lo prendo e lo metto nella timeline. Come vedete si tratta di un disegno molto grande lo rimpicciolisco un attimo così vedete tutto il suo contenuto c'è un grande rettangolo verde questa è la strada in primo piano e questo è il vialetto che porta la casa. Quindi riportiamo il valore al 100%. Bene ora accendiamo il pulsante del 3d. Adesso possiamo fare in modo che il prato sia inclinato perfettamente in orizzontale e poi l'abbassiamo un po' nella parte bassa della composizione. Quindi possiamo innanzitutto cliccare il tasto r che ci richiamerà le proprietà di rotazione quindi r poi per ruotarlo in modo tale che si metta in orizzontale dobbiamo ruotarlo intorno all'asse x cioè usare come perno la freccia rossa quindi x rotation. In questo caso non più 90 gradi ma meno 90 gradi in modo che la strada si trovi in primo piano quindi scrivo direttamente meno 90 gradi nei valori della x rotation. Al momento il prato lo vediamo rappresentato come una linea qui a metà della composizione. La prossima operazione è quella di abbassarlo in modo che si trovi più in basso. Quindi facciamo comparire le proprietà di posizione cliccando il tasto P. Agiamo sulla posizione Y e spostiamo il piano in basso. Io direi di abbassarlo più o meno così solo che è troppo vicino a noi. Praticamente la strada la troviamo qua fuori dall'inquadratura. Ora dobbiamo allontanare il piano da noi in modo che nell'inquadratura compaia la strada. Quindi adesso agiamo sulla posizione Z cioè sul terzo parametro. Tenendo premuto lo shift così facciamo più in fretta e direi di spostare il piano più o meno a questa distanza qui. Benissimo. Adesso cerchiamo di appoggiare la casa qui al termine del vialetto. Quindi prendiamo la casa, la aggiungiamo nella composizione, accendiamo il pulsante del 3D. Al momento non sappiamo quanto distante la casa si trova dal prato. Dobbiamo abbassarla fino a quando non incrocia il prato. Per cui clicco il tasto P per evidenziare i parametri della position. Agisco sul secondo parametro, abbasso la casa e come vedete adesso la casa interseca il prato all'altezza della strada. Quindi mi fermo non appena la casa comincia a intersecare il prato ed ora la sposto più avanti in modo che si trovi al termine del vialetto. Quindi di nuovo con la position Z la mando avanti e direi di fermarmi qui. Ora voglio che al termine del vialetto ci sia la porta. Quindi la sposto a destra. Magari la ingrandiamo un po' in modo che la porta sia larga più o meno come il vialetto. Però prima di agire sulla scala possiamo mettere l'anchor point qui alla base della casa e per spostarlo qua giù anche nello spazio 3D possiamo usare la palette Move Anchor Point. Quindi clicco qua giù in basso. Evidenzio la scala cliccando S. Aumento un poco di più la scala e poi con la position sposto ancora un po' la casa verso destra e adesso direi che ci siamo. Bene per ora ci fermiamo qua. Come forse già cominciate a capire non è semplicissimo riuscire a distribuire gli oggetti nello spazio tridimensionale in modo preciso osservando la scena soltanto da questo punto di vista frontale in prospettiva. Nella prossima lezione infatti impareremo a usare anche altri punti di vista. Questi altri punti di vista li troveremo all'interno di questo menu qua. Ora noi stiamo vedendo la scena attraverso Active Camera poi abbiamo altri punti di vista che appunto ci aiuteranno tantissimo a distribuire meglio e in modo più preciso gli oggetti all'interno dello spazio tridimensionale di After Effects. Bene quindi la lezione di oggi finisce qua e ci vediamo alla prossima ciao